Buon pomeriggio, buon sabato e bentrovati a questo nuovo appuntamento con Etty G. Mark. Per molti questi giorni segnano la fine delle vacanze. Si viaggia dunque verso casa in questo weekend. Attenzione sulle strade. Traffico intenso per il controesodo lungo l'autostrada 14, in particolare in direzione di Ancona, quindi verso nord. Code registrate in particolare tra Marche e Abruzzo. Si sono formate code a tratti tra Lanciano e Fermo, Porto San Giorgio. Quindi attenzione lungo le strade proprio in questi giorni. Ed ora invece con la cronaca andiamo a Macerata. Leggiamo dal sito www.etvmarche.it. Notizia che troviamo in primo piano. Una veglia di preghiera in attesa del ritorno della Salma a casa, dunque a Villa Potenza. C'è grande dolore dunque a Macerata per la morte improvvisa di Michele Gironella. Gironella in vacanza in Perù con la fidanzata stroncato da un malore mentre stava facendo una partita in un villaggio peruviano. Il giovane era partito con la ragazza nell'ambito di un viaggio organizzato da un tour operator. Una morte improvvisa che ha scioccato tutti, tanto più che Michele era uno sportivo e si sottoponeva regolarmente a controlli proprio per giocare a calcio. Ora i locali in Perù, le istituzioni locali hanno riferito che verrà svolta l'autopsia sul corpo del ragazzo mentre la famiglia è in costante contatto con il consolato. Gli amici hanno anche avviato una raccolta fondi per aiutare la famiglia di Michele per il rimpatrio. Ma ancora non c'è una data definitiva. Intanto ieri è stata organizzata una veglia di preghiera nella chiesa di Villa Potenza. Ancora per quanto riguarda la cronaca, polizia al lavoro dopo lo scippo avvenuto ai danni di una donna, un'anziana di 70 anni, anconetana, aggredita nel sottopasso tra Ancone e Falconara mentre andava al mare giovedì mattina, piuttosto presto nei pressi di Colle Marino, un uomo l'avrebbe strappato dal collo, la collana d'oro poi sarebbe scappato. Nonostante lo shock, l'anziana è riuscita a dare presto l'allarme. Sono intervenuti gli agenti delle volanti della questura di Ancona, anche con la squadra mobile che appunto sta indagando sull'accaduto. Ed ora parliamo del post-sisma del 2016. Tra pochi giorni, il 24 agosto, sarà l'anniversario della prima scossa che di fatto ha dato l'avvio ai terremoti di sei anni fa. Il punto sulla ricostruzione del centro Italia, in particolare delle Marche, su cui ricadono più della metà dei danneggiamenti totali, con il commissario straordinario al sisma 2016, Giovanni Legnini. Sentiamo. La ricostruzione post-sisma del centro Italia entra nella fase matura. Negli ultimi due anni, aperti 10.000 cantieri di edilizia privata che a giugno scorso ha fatto registrare 22.700 richieste di contributo. E' quanto viene riportato nel rapporto 2022, presentato dal commissario straordinario Giovanni Legnini, alla vigilia della sesto anniversario della prima scossa di terremoto che il 24 agosto del 2016 distrusse Amatrice, Accumuli, Arquata del Tronto e altri piccoli borghi, provocando la morte di 303 persone. Sul fronte degli interventi pubblici sono 365 le opere terminate ed altre 315 sono oggi in fase di cantiere. Il rapporto propone per la prima volta anche un quadro completo del danno provocato dal sisma di sei anni fa, pari nel complessivo a 26 miliardi e mezzo di euro. A fine giugno scorso erano 22.700 le richieste di contributo per la ricostruzione privata per un totale di 7 miliardi e 600 milioni. Delle quasi 23 mila richieste, 14 mila sono state approvate con 4 miliardi e 300 milioni di contributi concessi. Negli ultimi due anni le richieste sono raddoppiate e i contributi concessi triplicati. I cantieri autorizzati oggi sono circa 7 mila. Al nuovo governo chiederò di proseguire l'iter che porterà l'approvazione del codice delle ricostruzioni, annunciato il commissario Legnini. Anche la ricostruzione pubblica è in significativa crescita con 680 cantieri aperti e altri diversi centinaia che dovranno aprire nei prossimi mesi, anche legati all'attuazione del fondo complementare al PNRR che prevede forti incentive alle imprese, oggetto di 11 bandi che abbiamo pubblicato in queste settimane e che configura la seconda gamba, non solo la ricostruzione, ma anche la rinascita economico-sociale di questi territori. Tutto ciò nel mentre si è verificata una congiuntura sfavorevole legata all'aumento dei prezzi, alla diffusione del superbonus su tutto il territorio nazionale che ha determinato la saturazione del mercato dell'edilizia. Naturalmente nessuna enfasi, consapevolezza di ciò che è stato fatto, del molto che c'è ancora da fare, ricordo, attenzione per la sofferenza delle moltissime famiglie che ancora devono rientrare a casa, memoria per le vittime e rispetto per i familiari delle vittime che ricorderemo il 24 di agosto da matrice. Ed ora parliamo della violenza di genere che purtroppo non va in vacanza, però le donne denunciano di più. Questo è il dato che emerge dall'intervista con la criminologa e psicologa del Centro Antiviolenza di Ancona, Margherita Carlini. Vediamo. 182 pratiche solo nei primi sette mesi del 2022, ben 62 riferite a reati da codice rosso, ovvero maltrattamenti, atti persecutori, violenza sessuale e reati sessuali contro donne e minori. 25 i soggetti denunciati, 17 le misure cautelarie eseguite, di cui 5 in carcere. I dati diffusi dalla questura di Ancona sulla violenza di genere sono la fotografia di un fenomeno in costante aumento, una vera e propria emergenza civile, come sottolinea il questore di Ancona Cesare Capocasa. L'altra faccia della medaglia, però, è quella dell'aumento delle denunce e delle donne che decidono di chiedere aiuto, come spiegano gli operatori del Centro Antiviolenza di Ancona. Abbiamo avuto una richiesta da parte di 90 donne fino a questo periodo rispetto alle 75 l'anno scorso, quindi un incremento un pochino più significativo. Questo è un bene, perché vuol dire che le donne chiedono aiuto e l'importante è riuscire ad attivare una rete di protezione che realmente le creda e non le giudichi e che si attivi a loro tutela. A parte gli episodi di violenza fisica, esistono dei campanelli d'allarme che una donna può riconoscere? Ma sì, noi lo diciamo sempre. In realtà le relazioni maltrattanti si manifestano ed è possibile riconoscerle sin dall'inizio della relazione, quindi andando a far caso a tutti quelli che sono gli elementi che possono essere legati a comportamenti controllanti e di possesso, che magari non portano poi a una relazione inevitabilmente che diventerà una relazione violenta da un punto di vista fisico, ma che sicuramente vanno ad alterare quella che è la nostra libertà di espressione all'interno di una relazione. Quindi lo diciamo spesso anche ai ragazzi, ecco è importante far caso a tutti quei campanelli, a tutti quei segnali che non ci fanno sentire libere di essere noi stesse, non ci fanno vivere serenamente una relazione con l'altro. Ed ora parliamo del problema siccità. Arrivano i provvedimenti. Perché la pioggia di ieri non è bastata per evitare il razionamento dell'acqua in diversi comuni dell'Ascolano, in diverse zone dove l'allarme siccità ora si tramuta in ordinanze restrittive. Il Consorzio CIP ha deciso per la sospensione dell'erogazione idrica nelle ore notturne dalle 22 alle 6 a partire proprio da lunedì prossimo attraverso la chiusura dei serbatoi. Sono diversi i comuni interessati nelle province di Ascoli, Piceno e Fermo in alcune zone specifiche di questi comuni, Servigliano, Santa Vittoria e Matenano, Fermo, Montegiberto, Lapedona, Ortezzano, Castorano, Spineto, Liofida, Acqua, Viva Picena e Monte Prandone. Altra notizia che leggiamo dal nostro sito www.tvmarche.it Nessun focolaio al momento non risultano casi di persone che abbiano contratto il virus usuto usuto portato dalle zanzare quanto emerge dal servizio di sorveglianza malattie infettive e vaccinazioni del Dipartimento di Prevenzione dell'area vasta 2 dell'Asur dopo la presenza rilevata di zanzare portatrici del virus nella zona di via Barchetta appunto a Iesi, circostanza che aveva spinto il Comune a emettere un'ordinanza comunale per evitare i ristagni d'acqua che possono richiamare appunto le zanzare e quindi evitare l'abbandono di rifiuti dove possa concentrarsi poi acqua piovana tenere puliti i cortili, le aree aperte da sterpi, erbarce e rifiuti quindi per evitare l'annidamento appunto delle zanzare stesse. E questa era la nostra ultima news, io per il momento mi fermo qui grazie a tutti voi per averci seguito, ovviamente buon proseguimento con i nostri programmi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.